La domanda di oggi è perché la Sacra Scrittura insegna la verità? Ecco, e il Catechismo risponde con questa affermazione, perché Dio stesso è l'autore della Sacra Scrittura, questo è un dato di fede. Nel senso che ha scritto lui? Nel senso che l'ha scritta lui, se Dio è l'autore... Ma come l'ha scritta lui? La Sacra Scrittura è una cosa... Nel senso che ogni affermazione che si trova nella Sacra Scrittura deve essere riferita allo Spirito Santo che l'ha fatta. Quindi è vera? Quindi è vera. Ma se è vera, scusa, per esempio la creazione, i dinosauri per esempio, no? I dinosauri, eh sì. Ci sono stati, c'è l'evoluzione... I dinosauri sono stati messi, le ossa dei dinosauri sono state messe da Dio nei depositi fossili per provare la nostra fede nella verità della Sacra Scrittura. No, non è così. Aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, nel senso che Dio è giocarellone, cioè ha detto facciamo vita che si sono evoluti così. Non è così. Qualcuno magari, qualche senta fondamentalista crede che sia così, no? Cioè, crede che effettivamente, per esempio, certi creazionisti credono che la creazione sia da intendere in senso letterale... I sei giorni. I sei giorni della creazione intesi sei giorni di 24 ore e che quindi appunto poi i dinosauri bisogna spiegarli. Ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha un bagaglio di verità e di furbizia, soprattutto, e di intelligenza molto più grande, dice la scrittura è detta ispirata e insegna senza errore quelle verità che sono necessarie alla nostra salvezza. Cioè, siccome i dinosauri non ci interessano... Allora, i dinosauri sono una notevole acquisizione dal punto di vista scientifico, però non è necessario sapere che esistevano, rispettivamente che non esistevano, per salvarci. Come d'altro canto, di per sé non è necessario neanche sapere se il sole gira intorno alla terra o la terra gira intorno al sole, per salvarsi. Sì, per salvarsi, no. La Sacra Scrittura dunque insegna le verità necessarie alla nostra salvezza. Ecco, ma perché allora, scusa, perché è stato scritto in questa maniera qua? Cioè, voglio dire... Perché appunto, siccome Dio vuole sempre usare della libertà umana, gli autori umani della Sacra Scrittura non sono della specie di, come dire, di channel, di... Sì, non è una stenografia della volontà di Dio. Stenografia della volontà di Dio, cose di questo genere, no? La Sacra Scrittura viene scritta da autori umani e quindi viene scritta con le concezioni, con le convenzioni letterarie, con il linguaggio, nella lingua comprensibile agli autori umani che stavano scrivendo in quel momento. D'altro canto Gesù stesso, no? Gesù stesso, che è il verbo di Dio incarnato dunque che non ha bisogno di nessuna istruzione da parte di nessuno perché è lui la ragione vivente di tutte le cose, però parla in termini umani, si esprime secondo le categorie di un uomo della sua epoca. Si parlava in aramaico e diceva delle cose che magari adesso non sarebbero più condivisibili dal punto di vista della fattualità oggettiva perché la nostra scienza è evoluta. Ma è ovvio che sia così perché l'uomo, Dio, si incarna in una realtà umana, dunque prende in atto, prende in considerazione anche tutto ciò che l'uomo è, la sua cultura, e la sua verità. La religione cristiana dunque è una religione che ha al centro un libro ispirato, ma non si può dire che sia una religione del libro. Come no? No, noi non siamo una religione del libro perché per noi il libro ispirato è la testimonianza di una storia e di una vita al centro della quale c'è l'incarnazione. non è il libro che scende a un certo punto sul profeta già bello impacchettato così com'è perché è increato e sta nei cieli. Sì, no, no, quello forse no, però voglio dire il libro è il libro, non si può mica mettere via. Sì, perché non si può mettere via ma è la testimonianza di qualcos'altro. Infatti il catechismo parlando, citando San Bernardo di Chiaravalle dice la fede cristiana è una fede della parola di Dio che non è una parola scritta e muta ma è il verbo incarnato e vivente. Quindi non si esaurisce nella sacra scrittura. Non si esaurisce ma la sacra scrittura è testimonianza di un avvenimento che giunge fino a noi. Beh, come dicevamo in un'altra puntata c'è la scrittura, c'è la tradizione, c'è il magistero. E c'è il magistero, le due cose sono inscindibili. E c'è il magistero, le due cose sono inscindibili.